Però c'ho solo un unico rammarico io qua a Arezzo e quando torno è una cosa che ci ripetiamo io e il popolo aretino che è la mancata promozione dell'Arezzo dalla B alla A perché il mio rammarico unico che ho da giocatore è senato via a Gennaio questo è stato il mio unico rammarico Allora guarda, qui c'avevo questa domanda Guarda, vedi? No ma non era... L'addio all'Arezzo per il toro, è un cuore in pianto? Non era per strappare un applauso ma è una verità No, certo Anche perché sono passati quasi vent'anni Che mi racconto spesso Accetto tutto di quello che è stato nel mio percorso assolutamente Sì, poi sono passati quasi vent'anni Guarda che faccio come somma che ti anticipo le domande, occhio È vero, insomma era tremendo Ti ricordi quel periodo come lo vivesti? Perché il presidente Massini ha sempre raccontato che c'era Cairo che gli faceva pressione perché ti voleva e tu che comunque non eri insensibile a quella prospettiva lì di andare al toro Che poi torno andò in Serie A E l'Arezzo rimane in B Malissimo L'ho vissuta malissimo E quello era già un monito che mi doveva fare capire che non dovevo andare La tensione, ero troppo agitato Quando ho scelto Arezzo nell'estate del 2003 L'ho scelta punto e basta E' stato qualcosa di pancia, forte E' stato un intuito forte Quando sono andato via a gennaio invece no Avevo tutte le preoccupazioni del caso Ma non preoccupato di affrontare il Torino come salto di categoria Perché in quel momento avevo una consapevolezza, una forza Che non avevo paura di nessuno Era più paura di andare via a una città che mi ha accolto Il denominatore comune di tutti gli attaccanti che ci sono qua E' il fatto che Arezzo è stata una fucina E questa città ha tirato fuori dei grandissimi attaccanti Che oggi effettivamente non si vedono Si fai fatica a vederli Cioè i gol di testa, i dribbling Lo stop di petto al volo Vedi delle cose che adesso fai fatica Tu, Serafini, Spinesi, Floro Flores Insomma hai avuto tre partner d'attacco In queste due stagioni e mezzo L'intelligente è stato Serafini Quello più? Intelligente Calcisticamente dici? Spinesi, Floro Flores No Glielo diciamo poi Si ma lo sanno, glielo ho sempre detto L'ho sempre detto E poi c'era anche Roberto De Zervio Ti puoi immaginare che scontro di cervelli che c'era lì Cioè ci volevano tre palloni In allenamento Marino metteva tre palloni Spinesi, De Zervi e io Povero Marino Massacrato a volte Tra virgolette Anche dalla critica in un certo periodo Perché non sapevamo Tutto quello che doveva passare in allenamento Sì, a me mi diceva Elvis Oggi giochi Gioca a sinistra Che mettiamo Roberto lì così Sta tranquillo Mi ha detto va bene mister Dopo cinque minuti stavo dall'altra parte E Roberto che andava via Arrabbiato così Cosa ha questa piazza che Che le impedisce di fare il salto di categoria Perché poi qui alla fine siamo tutti a chiedersi Non ha un presidente retino Però Però c'è stato dieci anni Non so Perché ne hai puntato il dito? Perché quando c'eri tu Quando c'eri tu c'era un presidente Presidente retino Lo so Poi non ha avuto pazienza C'è la pazienza che è mancata Secondo te Il coraggio di Di qualcuno di Arezzo Che ha voglia di E ha fame di calcio Non è semplice perché Me lo insegnano sicuramente I direttori sportivi Insomma Chi si investe nel calcio O è un pazzo O ha veramente una passione straordinaria Perché il calcio comunque richiede somme Importanti di denaro E non basta neanche Perché poi Se non hai idee Non hai progetti Fai anche fatica Quindi sicuramente Quello che manca Non la mi voglia questa società Perché io Non mi permetterei mai Però Quello che penso io A livello così Di pancia È sicuramente Un presidente retino Cioè perché è uno del luogo Secondo te Dà qualche cosa in più Alla società che dirige Sì Che abbia voglia di investire Nel rifacimento dello stadio Di tante cose Di portare progetti Di riqualificazione Qualcosa questa società sta facendo Si vede Insomma si vede È chiaro che Porterebbe sicuramente Una sicurezza Un appeal diverso Anche alla città di Arezzo Perché poi sono tante Le alchimie che si devono unire Per vincere un campionato Sono tanti i fattori Noi non si è vinto il campionato Con Mario Somma Così a caso C'erano tante alchimie Che si sono unite Tante situazioni Abbiamo vinto un campionato Dalla C2 alla C1 Per il pescaggio Tanti giocatori Che si dovevano rilanciare Quindi quando Qualche giocatore Tu come amico Se si deve rilanciare Farò unire a Arezzo E così si rilancia Cioè tante Tante situazioni E poi chiaro Il presidente Mancini Nel suo passaggio Qua a Arezzo Non so quanti soldi Quanti soldi Buttò via Perché chiaramente Era anche una società Una società ambita Perché pagava Pagava bene Pagava bene Molto bene Ah sì Poi qualche cessione Insomma pesante L'ha fatta Qualche cessione pesante Una mi ricordo A stagione in corso Con il Torino Quella Quella Porto soldi Si è fatto la casa Mancini Ma troppe se ne fatti Quanto fu quel trasferimento Elvis 4.6 4.6 Il cartellino Sì Io non ho visto neanche uno Di quei 4.6 Beh beh Quelli erano Chiaramente Era una transazione Gli ho chiesto Alla buonanima di Pierone Ma c'è qualcosa per me No No Elvis Non ho capito Bell'aneddoto Credo Che sia interessante Non l'ho mai raccontato Questo Ero in Sardegna Con Con Gamberini Con le mogli Con i figli E praticamente Avevo tre squadre Avevo L'Arezzo La 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 Vispesaro E il Terramo E' stato il 2003 Questo Esatto C'era Fioretti Che mi massacrava Mi uccideva il telefono Non facciamo fatica a credere Non mi ricordo chi fossero gli altri due direttori sportivi Mi chiamavano meno Di Fioretti sicuramente Però E A un certo punto Non sapevo più che cacchio fare Dove vado Dove non vado Sai quando sei proprio Una sera Non mi scorderò mai Una delle persone più importanti della mia vita E' stata mia nonna Più importante Perché mi ha cresciuto proprio da ragazzino Quella sera Mia nonna Mi venne in sogno E mi portò questo calzettone amaranto Eh Io ho fatto questa scelta così Sì Sliding doors Come si chiama la tua nonna? Io ho qua Ho uno dei miei più grandi amici Di Reggio Emilia Che lo sa Quando io ho raccontato Io gli dissi Ho scelto Arezzo Perché mia nonna Mi è venuta in sogno Con questo calzettone amaranto E io la guardo E ho capito Il giorno dopo Chiamai Fioretti Firmi? Sì Basta È finita così E da lì è partita la sliding doors Poi dopo Questo sogno Non si è più ripetuto Ok? Ok Grazie a tutti Grazie a tutti